Ciao amici di FAN TV, questa sera vi ho portato in un posto spettacolare, siamo al Ghanas de Mar, corso Unione Sovietica 411 e qui vicino a me abbiamo il pilastro del Ghanas de Mar, il nostro DJ Chama, adesso io ve lo passo così vi racconta tutto quello che succede qua. Ciao a tutti amici di FAN TV, come ha già detto Ophelia ci troviamo qua al Ghanas de Mar, in questo venerdì diciamo appena nato dove proponiamo il meglio del reggaeton che è il genere che sta spaccando a Torino, che è appena nato pure lui, assieme al reggaeton vogliamo proporre le hit del momento, fare una serata diciamo secondo me esplosiva che a Torino non esiste, qua al Ghanas de Mar potete trovare secondo me una dei parti più caldi che esiste nel Piemonte, quindi venite a trovarci e non rimarrete delusi. Venerdì 21 partiamo con queste splendide serate di reggaeton, qui abbiamo il capo stipide, il leader del gruppo diciamo, come si chiama il tuo gruppo? Siamo la bomba cubana, i ragazzi della bomba cubana, la bomba cubana, allora spiegaci un po' che cos'è il reggaeton. E niente il reggaeton è un mix fra il reggae, non so se lo conoscete che faceva Bob Marley e l'hip hop americano, da questo mix è nato il reggaeton e niente un ballo di strada, lo possono ballare tutti, uomini, donne, bambini, quelli più grandi, quelli che no e per tutti. Per il D21. Ghanas de Mar, mi raccomando venite in tantissimi, ciao!